Il mondo è veramente piccolo, poi esiste uno Spider-Man tutto italiano, un film d'animazione che è comunque rivoluzionario e si vince l'Oscar. Sì, si vince l'Oscar, vuol dire che i tempi sono cambiati, che il mondo va avanti, che l'arte è congestionante, nel senso che si auto ha un'influenza nei vari generi, ma anche negli ultimi anni si è visto con film dedicati proprio all'universo dei comics, che sono in massima espansione, quindi si ritrova piacevolmente al cinema a vedere i personaggi con cui si è cresciuti, quindi da Capitano America a Spider-Man. E non a caso questa notte tutti quanti abbiamo visto la vittoria di due cinecomics, Black Panther e Spider-Man New Universe. Lei era stato preveggente, aveva già dichiarato che la disegnatrice Sara Pichelli poteva arrivare all'Oscar con una sua creazione? Beh, Sara è una collega che io stimo tantissimo, è grandissima e lei comunque ha già vinto, non serviva all'Oscar perché lei ha creato Mais Morales, che è una cosa completamente diversa da chi ha gestito il film, non ci sarebbe un film se non ci fosse Mais Morales, quindi io sono molto orgoglioso nel fatto che questo Oscar nasce da un concept art completamente italiano, quindi questa è la cosa più interessante da sottolineare. Faccio le mie congratulazioni a Sara e devo dire che anche il film stesso, a parte gli scherzi, merita perché è tecnicamente all'avanguardia dell'animazione. C'è una congestione tra il 2D e il 3D molto particolare che ha stroncato quasi completamente il nuovo modo di interpretare graficamente l'animazione. E quello Spider-Man nero che compare? Quello diciamo che è stata una piccola sorpresa anche per me, nel senso che lo Spider-Man noir è uno dei personaggi comprimari di Mais Morales all'interno del film, però nulla toglie ai meriti di Sara che sono principali e come quelli che hanno gestito il film. Io sono stato orgoglioso di vedere il mio personaggio che ho disegnato le origini quasi una decina di anni fa e che sia stato scelto tra i vari Spider-Man, che non esiste solo Spider-Man, ce ne sono tanti, e quindi ritrovarmelo lì è stata una bella sorpresa. Poi la sorpresa è stata nettamente maggiore quando stai al cinema con la propria piccola e quindi ti senti ancora più orgoglioso. In fondo il segreto è quello, i telespettatori e i primi, la prima giuria è formata dai bambini. Sì, i bambini sono i primi giudici, sono sinceri, schietti e se un cartone non piace, non piace, non stanno guardando il lato tecnico o quant'altro. Ma stiamo parlando di Spider-Man che è comunque un'icona che ha sempre fatto colpo sull'immaginario dei più piccoli, dei più grandi anche per tradizioni tramandate. Questo Spider-Man è piaciuto a sua figlia? Sì, molto, mi è piaciuto moltissimo e devo dire che si è anche esaltato a un certo punto.